La nazionale italiana di volley femminile under 20 domenica scorsa a Rotterdam ha vinto il titolo mondiale battendo in finale la Serbia. Dello staff tecnico della squadra fa parte da tempo il 25enne padovano Alberto Salmaso. Il mio lavoro consiste nel dare a ogni tocco di palla una qualità di come viene toccata la palla, quindi il numero del giocatore più la qualità del tocco che viene effettuato e a posteriori viene effettuato uno studio su questi numeri, su come poter migliorare la performance o su cosa è stato fatto molto bene in modo da poter continuare a farlo in maniera ottima. Questo viene fatto anche subito durante la partita? Viene fatto anche durante la partita, c'è un collegamento diretto con lo staff in panchina in cui c'è una condivisione subito istantanea dei dati e dei video per poter rivedere al volo in panchina le singole azioni e capire come sta procedendo la squadra. Un lavoro di precisione di grandissima velocità e attenzione, fondamentale per gli allenatori in panchina. Salmaso dal 2014 è lo scoutman della pallavolo Padova ed è nel giro della nazionale italiana femminile dal 2018. È anche secondo allenatore della squadra under 17 maschile di Padova. Sono molto fortunato e mi ritengo assolutamente fortunato di far parte e di aver fatto parte di svelate spedizioni. Spero che possa continuare anche in futuro. Sicuramente il sogno un giorno è di poter arrivare a far parte di una spedizione che vada ad un'Olimpiade, però già sicuramente aver vinto una medaglia d'oro mondiale è un motivo di grosso orgoglio. Complimenti al giovane scoutman, campione del mondo con la nazionale di volley femminile under 20 e anche all'allenatore della squadra Massimo Bellano, che anche se non è padovano vive da tempo a Sarmeola di Rubano.